E' sabato 18 novembre, siamo ad Arezzo, ospiti di una organizzazione artistica molto bella e prestigiosa, Galleria d'Arte e La Chimera, Palazzo e Chianini, Vincenzi, in via Andrea Cisalpino, ad Arezzo. E con noi ci sono i protagonisti di questa rassegna, di questo evento, che si apre oggi, ma che si concluderà il 7 gennaio, quindi ci sarà la possibilità per tutti di visitarla. Di che cosa parliamo e che cosa vi presentiamo questa sera? Il titolo è questo, Anima, Pensiero, Creatività, attraverso l'obiettivo di Maria Mulas, questa grande figura, questo grande personaggio, col piacere di avere qui a lei al nostro fianco. Ecco signore, entrando qua in questo magico palazzo, in queste bellissime sale, si è colti dai personaggi grandi che l'ha incontrato. Abbiamo visto Versace, abbiamo visto tanti personaggi davvero armani, Andy Warhol, abbiamo visto Miuccia Prada, insomma, ecco, l'occhio soprattutto parte da lì, è d'accordo? Sì, sì, sì. Io quando ho incominciato a fare queste foto, le fotografie, ho pensato che non avrei fotografato tanto per fotografare qualunque cosa mi capitava sotto il naso, ma ho incominciato subito a pensare di fare dei ritratti a dei personaggi che lasciavano qualcosa anche loro in questo mondo, no? E quanti personaggi sono legati alla moda, all'arte, alla musica? Più all'arte che alla moda, ma anche alla moda, ma all'arte è moltissimo e la musica, c'è tutte le arti, diciamo, la pittura, la scultura, eccetera. La foto più bella per me non lo saprei mai qual è, forse, l'ho già detto, le foto più belle sono quelle delle mie figlie, che io ho incominciato con loro, perché a studiare loro, a studiare loro e capire come fotografare, come fare il ritratto giusto, cogliere il loro pensiero, eccetera, il loro sguardo soprattutto. E' riuscita a, diciamo, a centrare l'anima dei personaggi, di chi sentiva che poi questi personaggi sono diventati più che amici, più che amici, perché andate a cogliere quella parte interiore del personaggio attraverso dei scatti giocati con una luce non artificiale, ma una luce bellissima che va a delineare, quasi come un quadro, ecco, l'artista posso dire, come un quadro.